Tempi di attesa lunghi, mancanza di personale, sovraffolamento e pazienti che presentano caratteristiche diverse rispetto a una trentina d'anni fa con la presenza di più patologie e una permanenza che richiede un accudimento specifico. Non è facile la vita di chi accede e di chi lavora al pronto soccorso, realtà che al centro di un cambiamento e di una riorganizzazione previsti dall'accordo Stato-Regioni con l'utilizzo di codici numerici abbinati ai colori in base alla gravità e una distribuzione più efficace delle mansioni del personale con l'estensione di competenze agli infermieri specificatamente formati. Il Veneto, come ci ha ricordato il direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Roma, Antonio Maccagnani, sta già applicando i 5 codici in via sperimentale da marzo. Ogni giorno sono circa 110 i pazienti che si recano al pronto soccorso a Borgo Roma, 200 a Borgo Trento. Le urgenze vengono trattate subito ma oltre il 50% di chi arriva è un codice bianco di non gravità e qui i tempi sono ben più lunghi. La realtà del Veneto si distingue da quella di altre regioni ma a preoccupare è l'alta età media del personale e la necessità di un ricambio che è difficile in tutta Italia se pensiamo che per il pronto soccorso e nella prima assistenza mancano 2.000 medici e 10.000 infermieri nel nostro paese.